Oggi parliamo dell'analisi tecnica in maniera approfondita rispetto a quello che ci siamo detti la volta scorsa cioè andiamo a vedere che cos'è l'analisi tecnica e lo faremo in una maniera molto diversa da quello che solitamente viene speso a livello di industria Allora diciamo la vulgata sull'analisi tecnica vuole che l'analisi tecnica tra virgolette sia stata inventata dal fondatore del Wall Street Journal cioè da Charles Dow, voi sapete che c'è l'indice Dow Jones perché Charles Dow e Edward Jones della Dow Jones & Company sono legate alla fondazione del Wall Street Journal e hanno diciamo scritto alcuni libri che attualmente sono ricercati su ebay che passano per diverse migliaia di euro perché sono diciamo una sono le basi, la partenza dell'analisi tecnica c'è un mio collega che li aveva comprati per diverse migliaia di euro e li esibiva nella sua scrivania il libro di Charles Dow in realtà l'analisi tecnica non è stata per virgolette inventata da Dow Jones ma è nata a metà del 1800 a Chicago in maniera molto empirica nel senso che la rappresentazione grafica dell'andamento dei prezzi trae le sue origini da quello che è l'empirismo, positivismo a livello filosofico quindi partire dall'esperienza dei mercati per costruire delle metodologie empiriche per la previsione dei corsi azionari e delle commodities ovviamente nel 1850 non esistevano i computer, non esistevano i dati in tempo reale i prezzi venivano diffusi via telegrafo, una cosiddetta food machine via telegramma o semplicemente venivano pubblicati su dei bollettini che vengono spediti via posta quindi chi ha iniziato a fare l'analisi tecnica ha iniziato a fare l'analisi tecnica con il problema dei dati vi ho detto in un'altra lezione che io ovviamente che tutti gli anni mi incanutisco nei video che vedo mi faccio paura, sembro babbo natale già io quando ho iniziato questo mestiere 25 anni fa in America ancora venivano venduti dei libroni che vi arrivavano una volta al mese in cui su carta millimetrata vi vengono mandati grafici voi sceglievate, non so, 100 commodities oppure 100 azioni e vi arrivava questo librone via posta in cui le date dei 2-3 mesi successivi erano lasciate in bianco quindi uno gli arrivava il librone e poi tutti i giorni o con un bollettino via posta o con telegrammi o con la quote machine o semplicemente copiando i dati dal Wall Street Journal uno andava a segnare quelli che erano i prezzi di borsa e a Manella andava a calcolare ad esempio gli indicatori di analisi tecnica se voi per esempio prendete il libro di Wells Wilder che è uno degli analisi tecnici più famosi che ha tra virgolette inventato alcuni indicatori che ancora oggi sono inseriti in un pacchetto di analisi tecnica tipo la DX o la RSI voi leggete il libro, voi vedete che nel libro lui vi spiega come si fa a calcolare a Manella i suoi indicatori alcuni trucchi per calcolare a Manella i suoi indicatori questo perché ancora nel 1976 c'era qualcuno che aveva il problema di calcolare delle medie mobili a mano ci sono anche diciamo su alcuni libri dei metodi per calcolare in via pratica, empirica in maniera molto facile ad esempio la media mobile esponenziale o la media mobile aritmetica quindi diciamo l'analisi tecnica ante computer veniva fatta con questi strumenti il modo più semplice per calcolare un grafico per calcolare i prezzi è quello di utilizzare il grafico a barre adesso vi vado a prendere su queste dispense che noi abbiamo messo il modo di rappresentare i prezzi questo è il grafico lineare che cos'è il grafico lineare? il grafico lineare è una barra che ha qua vedete per esempio se prendete la prima voi vedete che avete sulla vostra sinistra un trattino che è il prezzo di apertura poi avete sulla destra un trattino che è il prezzo di chiusura dove per apertura si intende il primo prezzo della giornata e la chiusura si intende l'ultimo prezzo della giornata se il grafico è giornaliero se viceversa il grafico è un grafico intraday per esempio su 60 minuti il trattino sulla sinistra sarà il primo prezzo dei 60 minuti il trattino sulla destra sarà l'ultimo prezzo dei 60 minuti quindi diciamo sarà il primo prezzo dalle 10 alle 11 dove quello delle 10 è rappresentato il trattino sulla sinistra e quello delle 11 è rappresentato con il trattino sulla destra si abbassa a dire che il prezzo di minimo è il prezzo di minimo della barra e il prezzo di massimo è il prezzo di massimo della barra quindi nell'intervallo temporale il minimo assegnato è il massimo cosa significa? Significa che se voi lo vedete formare una barra per esempio su barra da un minuto voi vedrete che avrete prima il trattino sulla sinistra poi il trattino sulla destra si muove per l'intero minuto quindi può corrispondere al trattino sulla destra con il prezzo del minimo e il prezzo del massimo perché a 30 secondi non si è ancora fermato il prezzo sulla destra il trattino sulla destra è ancora là che oscilla si fermerà quando la barra arriva al suo completamento cioè quindi dopo un minuto e poi parte subito col trattino sulla sinistra avete visto nel percorso dell'olio parte col trattino sulla sinistra un altro modo per tratteggiare i prezzi è quello di utilizzare il prezzo lineare questo che di solito sono i prezzi di chiusura ovviamente con un grafico lineare voi perdete tutte quelle informazioni che sono date da apertura e chiusura e soprattutto l'escursione della barra cioè il massimo meno il minimo una barra che avrà un'elevata chiusura cioè un'elevata differenza tra massimo e minimo è una barra che si dice che ha un'elevata escursione una barra con un'elevata escursione tipicamente è una barra che indica momenti o di inversione se l'apertura e la chiusura sono vicine ma la vedremo tra poco o di forte direzionalità se diciamo l'apertura è sui massimi e sui minimi la chiusura sui massimi e sui minimi ovviamente se l'apertura è sui massimi la chiusura sui minimi o viceversa esiste un altro modo di rappresentare le barre che è quello delle candele giapponesi la storia della candele giapponese è abbastanza particolare nel senso che arrivano in Europa negli anni 70 grazie a un libro di un signor che si chiamava Shimizu che ha scritto questo libro che si chiamava Japanese Charts or Charts che trovate dai prezzi folli su Amazon usato per metterlo in pubblicazione in cui lui per la prima volta annuncia al mondo occidentale che già in Giappone nel 1600 la borsa è di Osaka a suo dire esiste una delle pergamene in cui i giapponesi disegnavano i grafici sostanzialmente colorando il corpo quindi se la barra è nera vuol dire che la chiusura è ribassista rispetto all'apertura se la barra è bianca vuol dire che la chiusura è rialzista quindi questo significa che qua c'è stata l'apertura e qua c'è stata la chiusura quindi questa barra questo bel candelone bianco è una barra rialzista cioè quindi la chiusura è superiore all'apertura viceversa se la barra è nera nera cattivo è stata una barra ribassista la chiusura è inferiore all'apertura ok? l'utilizzo delle candele giapponesi ha un indubbio vantaggio di rappresentare immediatamente un trend che è positivo quindi quando vedete dei bei candeloni bianchi sapete che il mercato sta tirando vedete dei candeloni neri vedete che il mercato sta scendendo in realtà questo non lo dice nessuno lo dico io quello delle candele giapponesi poi si è trasformato in uno strumento commerciale in senso di un signor americano che si chiama Steve Mason lo fanno i soldi americani si è inventata una favoletta che è andata in Giappone poi tramite una minca tradotto da antiche pergamene quindi il samurai la rava e la fava e si è inventato le candele giapponesi in salsa commerciale da quel momento è stato un florileggio di americani che sono andati in Giappone hanno sempre scoperto delle carte degli antichi samurai qualche antica figura a cui hanno dato dei nomi molto esotici ci sono le tre cornacchie nere i tre soldati bianchi stella nascente stella del mattino e via andare no? da oggi tutti i nomi che avvocano i samurai in realtà se mi posso permettere nessuno ha mai visto un grafico del 1600 con la tipica delle giapponesi sarebbe facile perché basta fare un apporto e ve lo fanno vedere diciamo che da quello che ricordo io che faccio una ricerca su questo settore effettivamente ci sono dei grafici pitturati ma tutto il mambo jambo che noi ci raccontiamo sulla stella del mattino diciamo non è trovato storicamente nel senso che è stata un'americanata cioè si la scala di Osaka nel 1600 usavano a dipingere i grafici ma gli americani come sempre ci hanno inventato insieme ci hanno cavalcato per vendere diciamo più libri e più soft anche il grafico anche il grafico point and figure che è un grafico che viene venduto come una magia e in realtà ha una ragione di tipo storico allora vi ho detto che nella nell'epoca in cui non si può vivere queste cose le racconto solo io cioè non è che diciamo se voi andate su Amazon e battete point and figure vengono poi 200 libri in cui vi spiegano i segreti del point and figure no? tutti i giovani che si avvicinano ai mercati finanziari pensano che ci sia sempre come una magia in queste cose il nostro amico sulle criptovalute sicuramente sul suo software ah il point and figure guarda che mi interpreta bene il mercato perché? il point and figure ha una ragione molto prosaica della sua nascita voi pensate quando non ha ancora esterno i computer e uno dovrà fare un grafico di borsa allora è più facile tutti i giorni mettersi lì prendere il vostro giorno e disegnare una barra cioè apertura minimo mass perché voi quando disegnate una barra partendo da massimo, minimo e chiusura se ne disegnate tante cosa dovete fare? non dovete cioè partite e fate apertura un trattino massimo un altro trattino perché voi non sapete se il massimo corrisponde alla chiusura minimo un altro trattino chiusura un altro trattino solo dopo che avete fatto questo gioco congiungete il minimo col massimo e avete la barra ok? allora pensate se uno lo deve fare su 100 azioni tutti i giorni quando gli passa ok? allora qualcuno ha ragionato ha detto ma a me cosa interessa dei grafici interessa dei grafici che si muovono no? voi pensate a un mercato che tutti i giorni fa apertura 5 massimo 10 minimo 2 chiusura 7 apertura 5 massimo 10 tutti i giorni voi come dei bamba state lì a segnare sempre la stessa grafica no? allora io devo andare a segnare il grafico quando si muove quindi che cosa faccio? mi invento il point in figure point in figure significa che ogni pallina è un movimento di 10 ogni croce è un movimento di 10 a ribasso quindi ogni pallina è un movimento di 10 a ribasso ogni croce è un movimento a ribasso quindi io che cosa vado a segnare sul mio grafico? io vado a vedere il grafico non si è mosso i prezzi sono uguali a quelli del giorno prima il mio librone lo giro giro pagina ci siamo? da che è nato il point in figure? il point in figure non è niente di magico non è una trovata commerciale è semplicemente un modo di rappresentare i prezzi se e solo se questi si muovono ok? banale quindi il point in figure in sé per sé non vi dice niente di più di un grafico a barre e non vi dice niente di più di un grafico candlestick da qua ovviamente sono nati gli americani in questo settore sono veramente bravi milioni di tipi di grafico c'è il grafico Kaji il grafico Renko il 3 line break il candle volume ogni anno l'industria si inventa un nuovo tipo di grafico che ovviamente era sempre usato gli antichi non so perché tutti vanno sempre a pescare gli antichi samurai forse perché nessuno sa leggere il giapponese quindi no? si vede che quando hanno barato fin dall'inizio dopo è facile barare adesso per esempio va di moto un altro grafico che si chiama Ikimoku che non so cosa sia no? si vede che qualcuno in America si è inventato un grafico Ikimoku sempre che tutti ovviamente gli antichi saboreschi avevano il grafico Ikimoku e c'è gente che scrive il newsletter per esempio c'è uno in Italia che scrive una newsletter sul grafico Ikimoku no? che non so che cosa sia non so cosa sia ma non lo voglio neanche sapere è stato un grafico un grafico non è perché ci sia Ikimoku il Cagio il Renko diciamo cambiate la situazione diciamo storicamente è importante andare a diciamo però a vedere quelli che erano già nel 1884 i principi dell'analisi tecnica i principi dell'analisi tecnica così come sono stati raccontati da Dow e Jones poi da Rea sono sostanzialmente che i prezzi scontano tutto cioè nel senso che a differenza delle distinzioni che noi abbiamo visto sull'efficienza dei mercati quindi efficienza debole forte e semiforte per chi crede dell'analisi tecnica il prezzo è tutto nel prezzo è l'unica rappresentazione reale di quello che sta venendo sui mercati no? il mercato ha tre stadi che sono rialzo, ribasso e congestione da cui il famoso adagio scende e sale o in orizzontale statisticamente il mercato non va da nessuna parte per il 70% del tempo quindi se voi un giorno vi copriete i mercati se voi chiedete dove va la borsa non dovete dire neri alto neri basso ma dire lateralizza secondo me lateralizza un po' ok? non è andato lontano dal vero i trend variano a seconda ovviamente del time frame poi questa è una banalità no? i trend sono aperti i marchi o i mesi gli anni voi avete tendenze di lungo periodo e tendenze ad esempio di breve periodo ad esempio la borsa italiana è una tendenza di lungo periodo ad andare in laterale no? ci sono ad esempio i mercati come quello americano che hanno una tendenza di lungo periodo ad andare a rialzo ovviamente identificata la tendenza è facile per chi sta dentro fa delle provisioni dove va l'America? rialza no? dove va l'Italia? da nessuna parte diciamo quando voi avete una tendenza dove avete un volume che conferma l'andamento dei prezzi una tendenza è sana se i volumi accompagnano il movimento quindi una tendenza a rialzo il volume a rialzo significa che sempre più persone stanno investendo in quel particolare asset ok? volume significa il numero di azioni che vengono comprate ok? ovviamente è importante anche il controvalore perché ci sono molte azioni soprattutto in Italia sul nostro mercato che scambiano quanto vale un garage in centro Bologna ok? quindi soprattutto se andate sull'AIM sono delle aziende che scambiano tutti i giorni 20, 30.000 40.000 euro quindi importanti i volumi ma dovete vedere anche quanto quota un'azione una cosa molto importante è che è una tendenza in atto finché non ha una prova contraria cioè non cercate mai di fare di afferrare il coltello per la lama mentre cade sperando di non tagliarvi questo vale anche nelle tendenze che ci sono sul mercato sul mercato no? la tendenza all'interesse sulle app è in atto finché non ha una prova che non ne vuole più nessuno quindi se io non ho la prova devo presumere che la tendenza in atto andiamo a vedere in dettaglio come si fa a identificare un tren l'identificazione di un tren faremo gli esercizi la prossima volta vi porterò 5 grafici e faremo diciamo con delle esercitazioni senza nessuna valutazione è una parte abbastanza divertente e oggi ne andiamo a identificare allora un trend si definisce come due massimi crescenti allora se voi andate a vedere un trend un trend un trend a rialzo un trend a rialzo un trend a rialzo è dato da due massimi e due minimi crescenti. In questa situazione voi vedete che io ho due massimi crescenti e due minimi crescenti. Quando io su un grafico vado a vedere due massimi crescenti e due minimi crescenti io dico questo è un trend a rialzo che si presume duri fino a prova contraria. Ci siamo? Quale sarà la prova contraria? La prova contraria di un trend crescente è due massimi e due minimi allineati a ribasso. Quando io ho su un grafico due massimi e due minimi che sono allineati le famose 2V o 2V rovesciate dipende da dove partono io ho una congestione ho un movimento laterale quindi ripeto noi abbiamo tre movimenti rialzo, ribasso e congestione cioè rialzo, ribasso e lateralità congestione sta per la rapidità movimento orizzontale allora se voi andate a prendere un qualsiasi grafico adesso io purtroppo su questo computer non ho una sono diciamo andiamo a prenderlo sul mio sito così mi vengono esempi più facili andiamo a prendere ovviamente vedete per esempio l'autostrada meridionali l'autostrada meridionali ha fatto sostanzialmente un trend decrescente questo minimo è inferiore a questo minimo, questi minimi sono allineati non facciamo i geometri precisini a dire questi due minimi sono allineati questi massimi sono allineati questo minimo è inferiore a questo minimo che è inferiore a questo minimo qua mi ha fatto una sparata vedete ha chiuso, la barra verde corrisponde a una barra bianca cioè una barra rialzista la chiusura ha corrisposto con questo massimo e ha corrisposto con questo massimo poi il giorno successivo ha aperto oltre i massimi ma non è riuscito a confermare il trend cioè i ragazzi ci hanno provato hanno provato a pompare sul titolo e poi è crollato e ha segnato un minimo inferiore a questo minimo quindi io che cosa posso dire di questo titolo? posso dire di questo titolo che è che è basso perché vedete che io ho dei minimi o allineati o decrescenti ok? poi ho di nuovo un massimo ma un massimo che è inferiore a questo mio massimo ci siamo? e di nuovo io ho un minimo che è inferiore a questo minimo ci siamo? ci siamo che sono dei minimi decrescenti e dei massimi che non riescono a rompere il massimo precedente? io perché ho pubblicato questo articolo? ho pubblicato questo articolo perché gli ho detto occio occio ragazzi che noi abbiamo per la prima volta dei volumi strepitosi vedete che questa barra dei volumi è superiore a tutte le barre dei volumi precedenti? ci siamo? e ho dei prezzi che mi stanno forzando i massimi precedenti cioè se io avessi una chiusura che non ho perché vedete che qua ho una chiusura che è poco sopra 28,5 ma è inferiore a questo massimo quando io ho una chiusura superiore al massimo precedente io che cosa ho? ho un cambiamento di tendenza ok? cioè inizio a vedere le corne del toro andiamo a vedere se ci sono degli altri degli altri segnali interessanti adesso purtroppo la situazione è ribassista quindi si fa fatica a trovare si fa fatica a trovare ecco vedete qua ci sono degli altri grafici più sexy per esempio Campari Campari è un gran bel titolo è forse l'unico titolo riazzista che abbiamo nel nostro listino come faccio a dire che Campari è riazzista? allora vedete che è inserito all'interno questi sono barri mensili barri mensili dal 2015 che mi fanno? un massimo superiore a tutti i massimi precedenti un minimo superiore a tutti i minimi precedenti un massimo superiore a questo massimo un minimo superiore a questo minimo ci siamo che quando io ho un massimo superiore a un massimo un minimo superiore a un minimo io ho una tendenza a rialzo ci siamo? allora già qua è un buy con questo bel barone bianco con questo bel candelone bianco poi io continuo io ho un massimo superiore a questo massimo superiore a questo massimo superiore a questo massimo questo minimo ehi! criptovaluta! muto questo minimo superiore a questo minimo superiore a questo minimo questo minimo superiore a questo minimo supera questo minimo, supera questo minimo questo massimo, supera questo massimo supera questo massimo, supera questo massimo questo massimo supera questo massimo, supera questo massimo questo minimo, supera questo minimo questo minimo, supera questo minimo supera questo minimo, supera questo minimo supera questo massimo, supera questo massimo questo massimo, supera questo massimo capite che sono tutti massimi e minimi crescenti ok se noi andiamo a vedere sul daily che cosa ha fatto sul daily sul daily ha innanzitutto mostrato dei volumi che sono spettacolari come mai era successo negli ultimi dall'inizio di agosto da 4 mesi spettacolari e quindi noi l'abbiamo segnalato come buy ok per esempio anche sul giornale.it qual è la valutazione? la valutazione è che questo è un grafico che è aggiornato a livello daily sta rompendo il massimo precedente quindi se voi guardate da questo punto sono tutti massimi e minimi crescenti vi ricordate che abbiamo ragazzi ragionieri però bisogna che stiamo fermi quindi voi vedete che ci sono dei massimi e dei minimi allineati a rialzo vedete che da questo punto in su ha fatto tutti i minimi crescenti questo massimo è superiore a questo ed è allineato con questo questo è allineato con quello però questo è superiore a questo questo è superiore a questo e questo è superiore a questo questo è il massimo storico il massimo storico ha sempre una valenza molto ha sempre una valenza molto importante ok quindi una tendenza avviene in questo modo come funziona il gioco il gioco funziona così è degli esercizi che vi chiederò di fare la prossima volta quando avete un po' digerito queste cose voi avete un mercato che cos'è questa? una? ok a un certo punto avete un mercato che rompe questa congestione in questa situazione avviene un meccanismo che a livello di psicologia comportamentale direste voi molto particolare i prezzi che ho indicato all'interno del cerchio rosso sono dei prezzi dei massimi rispetto ai prezzi precedenti ci siamo? ci siamo che i prezzi che ho indicato nel cerchio rosso sono superiori a tutti quelli precedenti? allora voi siete il nostro amico delle criptovolute siete la vostra cameretta in località? ok dove abiti tu? ok ok ci fai diventato tutti ricchi ah ok up and now ok what's up come ragazzi? dove abiti tu? ponte ronca ah allora voi siete a ponte ronca nella vostra cameretta e vedete con un grafico come questo ok qual è il segnale che vi sta dando ok allora senza capire niente del criptovolute senza capire niente delle azioni cioè voi non avete informazioni da insider ok non avete informazioni da insider voi vedete semplicemente che sul mercato su qualcuno facciamo che sia un'azione perché è più facile che sta comprando a dei prezzi massimi rispetto a tutti quelli che ci sono precedentemente secondo voi chi sta comprando sui massimi che informazioni vi sta comunicando che lui ha delle informazioni tali per cui è convinto che se compra sui massimi cosa farà successivamente? rivenderà a un prezzo più alto no? siamo? allora ovviamente c'è l'osservazione e se lui non ha quelle informazioni ma sta barando perché questo è il sospetto no? quando uno compra non sono le previsioni del tempo no domani hanno previsto neve io devo andare a Empoli per lavoro ho comprato il biglietto del treno finché la previsione rimane a livello domani minerica e io non faccio nessuna azione è una previsione nello stesso momento in cui io compro il biglietto del treno sto impattando sulla realtà ci siamo che sto impattando perché col portafoglio ho preso fuori il portafoglio ho preso fuori della fresca che per chi non è di Bologna significa che è del denaro e ho comprato un biglietto del treno qual è il primo effetto del fatto che io ho comprato un biglietto del treno perché ho paura della neve che ho pagato il doppio perché tutti stanno comprando biglietti del treno domani perché girano col lavoro non vogliono prendere la macchina siamo allora nello stesso momento in cui io compro sui massimi non è una previsione non sto comunicando al mercato un'idea cioè non è un articolo di giornale ok non è un'opinione allora se voi vedeste che oltre ai prezzi qua ci sono anche i volumi i volumi sono le barrette che sono sotto che adesso non riesco a disegnare ma sono troppo in basso qui ci sono no non riesco a disegnarle non so perché se voi vedeste qua anche dei volumi apocalittici a rialzo significa che non solo voi state comprando ma anche quelli grossi stanno comprando e vi mettete in coda allora voi vedete qua per esempio che noi stiamo già arrivando ai massimi storici di Bion qui ci sono dei ragazzi che ci stanno mettendo i milioni azienda bolognese secondo voi questi ragazzi sono tutti dei picciu che stanno comprando sui massimi o sono dei ragazzi dei cowboys che sanno che questo titolo deve ancora andare su sono dei ragazzi che forse hanno delle informazioni riservate su questo titolo o hanno delle informazioni non riservate ma sanno elaborare meglio le informazioni degli altri e sanno che questo titolo deve andare a rialzo ci siamo se voi vedete il metto Camo Normandy che costa 800 euro e c'è uno che offre 850 che ha 4000 transazioni alle spalle secondo voi perché lui lo compra 850? perché vale 800 e lui lo compra 850? lo compra 850 perché sa che ne vale 1500-2000 o no? la stessa cosa con la borsa quindi perché ebay vi mette le offerte con il numero di transazioni? perché è un'informazione vitale per sapere se quello del metto è buono o non è buono quello è un gran bel elmetto uno del metto da 2000 euro ok? quindi quando io vedo che arrivo a 900 e mi sta scadendo l'asta e c'è uno che è 950 mi passa davanti secondo voi uno che ha 2000 transazioni mi passa davanti 950 su 900 perché mi vuole rubare vuole guadagnare quei 50 euro perché lui non ha niente da fare no? non ha niente da fare che dice ah 50 euro adesso lo compro poi divento matto come lo devono consegnare lo pago su paypal e poi dopo lo li devo rimettere in asta è tutto per guadagnare 50 euro secondo voi è così no? lo fa per guadagnare 50 euro o lo fa per guadagnare 1000? lo fa per guadagnare 1000 quindi la stessa cosa che avviene su ebay su un pezzo di antiquariato avviene su un'azione allora noi abbiamo le nostre campari quando le nostre campari romperà il massimo che segnale sarà? sarà un segnale rialzista andiamo a prendere il nostro grafico io ho tre massimi allineati ho una rottura del massimo quindi questo è un segnale di acquisto ecco voi qua potreste già avere la condizione due massimi crescenti due minimi crescenti ecco qua ho già un segnale di pericolo perché ho un segnale di pericolo questo? perché ho per la prima volta due massimi decrescenti per avere la definizione di ribasso che cosa devo avere ulteriormente due massimi decrescenti due minimi decrescenti quindi questo sarà il mio segnale di ribasso ok qui ho iniziato una tendenza a ribasso quando avete una congestione non è detto che vada sempre su potreste potreste avere potreste avere anche un movimento ribassista come funziona? funziona nello stesso modo che un movimento ribassista avete due massimi allineati due minimi allineati siamo allora avere la cognizione dei massimi e dei minimi allineati vi impedisce di fare come quella signora che mi ha detto comprato a staldi quando perdeva il 28% giorno dopo ha perso il 48% se voi guardate il grafico di quella situazione era evidente che c'erano dei minimi e dei massimi allineati verso il ribasso ok ad esempio EMAC EMAC sta dando un segnale rialzista secondo voi? no questa è la classica congestione vedete che i massimi sono decrescenti e i minimi sono crescenti ma non avete una sessione di massimi e minimi crescenti che diciamo sono delle V una più piccola dell'altra il cosiddetto triangolo che adesso vedremo quindi diciamo una tendenza si distingue rialzista e ribassista e orizzontale il volume deve confermare l'andamento della tendenza l'abbiamo visto ad esempio su Bion su Campari vedete che qua su Campari adesso non si vede molto bene ma vedete che ci sono degli spike di volumi che sono superiori a tutti i volumi precedenti vedete che siamo in un'area in cui la media dei volumi è superiore alla media dei volumi transati nei 6 mesi precedenti chi è che sta comprando Campari in questa fase è uno che ha un'aspettativa di prezzo no? sono discorsi dell'elmetto se l'elmetto quota 100 c'è uno che lo compra 950 ok? allora avete chiaro vi ha spiegato cos'è dall'olio un supporto e una resistenza lo sapete tutti? no? allora questo che vi sto per dire attiene alla finanza comportamentale allora andiamo con la nostra matita cosa è successo in quest'area è successo nell'area rossa è successo che nell'area rossa ci sono dei prezzi no? adesso non è disegnato molto bene il mio rettangolo però sono dei prezzi c'è qualche sciagurato che ha comprato sui massimi ovviamente non era il nostro amico di Ponte Rocca perché lui compra sempre sui minimi però c'è qualcuno che ha comprato sui massimi ok? e che non ha venduto ci siamo che c'è qualcuno che ha comprato sui massimi e ha comprato sui massimi una, due, tre quattro volte cioè non è una cosa che è avvenuta una volta sola cioè quest'area disegnata in rosso non è uguale a questo punto perché quest'area è costituita da quattro punti ci siamo che quest'area di prezzo è più importante di questo singolo punto perché il mercato ha speso più tempo all'interno di quel box all'interno di quell'area il mercato ha speso più tempo che all'interno di questo punto è evidente no? ci siamo che è evidente? ok allora quelle persone che hanno comprato in questi quattro cerchi e che sono ancora lunghe quando arriva qua iniziano a perdere poi qua sono tutte clamorosamente imperdita qua arriva la depressione qua non dormono di notte qua inizia le crisi coniugali perché hai comprato quell'azione te l'avevo detto di non comprarla io adesso scappo torno dalla mamma qua no? qua mancanza dell'appetito sessuale perché ovviamente c'è uno e ha rubato il suo risparmio e si sente quasi si butta giù dal balcone eh? diciamo che sono sono stati fatti gli studi psicologici e tutti i fenomeni che vi ho detto sono dei fenomeni tipici di chi perde soldi in borsa no? astenia insonnia no? depressione disturbi di coppia scatti di ira eh che cosa sogna questa gente in questo periodo? loro sognano che come in una magia le azioni qui segnano in un minimo e poi e tornano là non sognano questo? e appena i prezzi tornano allo stesso punto in cui loro hanno comprato che cosa fanno? vendono la coppia si ricongiunge lei torna a casa dalla mamma lui riprende a dormire no? è il mondo che torna nella sua classica direzione quindi io senza sapere né leggere né scrivere in quest'area che cosa posso presupporre? cioè quando io sono qua e col binocolo guardo al prolungamento di quest'area quando io sono qua eh io sono qua e guardo in alto io che cosa so per certezza nel mio cerchio arancione cosa so per certezza che succederà mi devo aspettare un flusso in acquisto o un flusso in vendita? in vendita perché sono tutti quelli che sono stati imbrigliati qui dentro che qua mi vendono ci siamo? questo flusso in vendita si chiama resistenza cioè i prezzi che qua sono spinti dalla domanda da un eccesso di domande rispetto all'offerta perché se i prezzi salgono c'è un eccesso di domande rispetto all'offerta quando arrivano in quest'area hanno la tendenza a fermarsi si chiama resistenza ok? perché si fermano qua e non 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 si fermano qua perché qua il mercato ci ha passato più tempo cioè qua c'è una resistenza è chiaro che anche qua c'è una resistenza perché ci sono quelli che hanno comprato qua 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 però qua io ho solo un punto non ne ho quattro pensiamo che qua ci sono quattro punti e qua ce n'è solo uno questa è la resistenza il supporto è esattamente il supporto è esattamente l'opposto diciamo che il supporto è esattamente l'opposto il supporto è da chi è fatto? il supporto è fatto da un ribassista che è rimasto scottato la resistenza la resistenza è da uno che era in acquisto che giocava a lungo sul mercato come si dice in gergo che aveva comprato è rimasto scottato il supporto è dato da uno invece che era ribassista sto semplificando non è sempre uno ribassista i ribassisti sul mercato azionario ci sono ma non è che sono diciamo una componente diffusa ma diciamo come logica è ribassista vogliamo fare un esempio? mi rompe sui massimi io sono il nostro amico trader di Ponte Ronca che cosa fa lui quando vede un massimo? va short perché sulle criptovalute i breakout non funzionano vero? non si però tu sai quando funziona quindi lui che cosa fa qua? va short ok? quindi significa che lui vende quando il mercato arriva lì lui sta perdendo o sta guadagnando? eh? perde sta perdendo perché lui ha venduto a ribasso e il mercato è venuto in faccia e sta andando su quando sta di nuovo perdendo no? diciamo che sta già perdendo lì? che cosa sogna di notte? scenda che i prezzi tornino qua no? perché quando tornano qua lui chiude pari e patta quindi io quando sono qua io mi posso aspettare che in questa situazione c'è un flusso di acquisto di tutti quelli che sono di short e che si stanno strinando le ditina no? li stanno amputando una a una quindi quando torna qua mi aspetto il flusso di acquisto questo è un supporto ok? allora spiegato questo questo modo di di ragionare e di interpretare le barre e i grafici esiste tutto un corpus di tecniche di tecniche che traggono sempre origine dall'empirismo dal positivismo cioè no? ritorniamo alla filosofia che sono tecniche sperimentali le quali vi danno la possibilità di misurare il trend la produzione di queste tecniche di queste metodologie nell'analisi tecnica classica è sterminata è sterminata le trendline le medie mobili la DIC l'RSA e la RAVA ce ne sono milioni triangoli in testa e spalle no? milioni di queste metodologie empiriche importo a conoscerle tutte? no perché l'analisi tecnica classica ve lo ripeto per l'ennesima volta e ci saranno almeno 3-4 domandine nei compiti è nata a metà del 1900 cioè nel 1850 nel 1860 in America nella borsa di Chicago per creare delle regole da praticoni per interpretare i grafici ma non avevano i computer non le hanno testate quando i computer e la potenza di calcolo è diventata cheap e accessibile a tutti hanno iniziato a testarle e lì è nata l'analisi tecnica moderna cioè basata sui test statistici del computer su multi chart su questi software quindi sono due mondi separati quando voi vedete nella lettura scientifica purtroppo nella lettura scientifica per esempio John Lofine le viste anche prestigiose che dicono facciamo il test dell'analisi tecnica classica e scoprono che la test tecnica classica non funziona stanno scopriendo l'acqua calda perché l'analisi tecnica classica è stata fatta da un mercante ciccione di bestiame del 1850 di Chicago che ha inventato delle regole del pollicione che nel 90% dei casi non funzionano 90% di calda oggi abbiamo un'analisi tecnica moderna poi anzi bisognerebbe dire oggi abbiamo il deep learning no? cioè siamo andati anche oltre quindi inutile che ve la prendete cari accademici con l'analisi tecnica classica perché l'analisi tecnica classica non funziona perché oggi nell'industria si continua ancora a parlare di analisi tecnica classica quindi di trendline di medie mobili no? si continua ancora a parlare di tesche spalla di triangoli perché soprattutto l'industria finanziaria di basso livello quella per il retail ha bisogno di dare l'impressione agli investitori soprattutto privati di essere in controllo quindi continuamente produce tutti questi grafici fosforescenti il Kaji il Renko l'Equivoglio il Miserum Morail le tre coronacchie bianche le tre coronacchie nero cioè ogni giorno c'è proprio l'industria che produce fumo da vendere a chi sta a credere a queste cose siccome la mamma degli imbecilli sempre incinta è un mercato che è fiorente sarà sempre fiorente ci sarà sempre quello c'è la parola del gatto e della volpe e dell'albero del campo degli zecchini quindi è inutile prendersela con l'analisi tecnica classica l'analisi tecnica classica a monte si sa che non funziona perché viene proposta oggi ad ogni pienso spinto perché serve l'industria ok se io non ti dico che con questa piattaforma magica con i grafici collo grafici ti saprei operare con le criptovalute e guadagnerai un sacco di soldi andrai a scuola a tomasini a fare parannacchia a tomasini di finanzi di aziendate la fai poi te perché io faccio soldi con le criptovalute si sgonfia il meccanismo il meccanismo sta in piedi se solo se io do come industria la percezione al mio utilizzatore che con una piattaforma sia possibile con delle trendline che tutti stanno a tirare perché appunto è una regola del pollicione di provvedere i corsi di borsa questo ovviamente non c'è scritto sui libri ve lo dico io ma purtroppo è così quindi da qua in poi sono tutte metodologie io vi chiederò all'esame sono tutte metodologie che risalgono a 200 anni fa che vi danno la possibilità di interpretare i grafici ma che non hanno niente a che vedere con l'analisi tecnica moderna quando si parla di un'analisi tecnica moderna che è un mio copyright che ho implementato io in un'analisi tecnica moderna diciamo c'è stato qualcuno prima come Thomas Demar che ha detto the new science of technical analysis non ho usato la parola moderna però de facto ci sono stati autori nella pubblicistica di un'analisi tecnica che hanno tracciato il solco hanno detto bene fino ad adesso erano dei praticoni cappello per cosa dire in base alla loro esperienza hanno dato delle regole però da adesso in poi andiamo col computer quindi diciamo non andiamo più a raccontarci che i bambini natano sotto i cavoli e andiamo a prendere un computer andiamo a testare questa regola facciamo pulizia il 90% lo buttiamo via ringraziamo chi l'ha creato ma lo buttiamo via e ci teniamo il 10% che è buono ok quindi quando si parla di analisi tecnica c'è sempre distinguere analisi tecnica classica analisi tecnica moderna le trendline non hanno niente di magico non è un'arte le trendline le potete testare ok la stessa cosa i triangoli la stessa cosa ormai si può testare tutto ok quindi oggi come oggi in un corso universitario di informatica per il management andare a parlare di trendline a mio avviso cosa che viene fatta in tutta Italia ma non lo faccio io ha un sapore di tipo storico non c'è l'analisi tecnica connessa da trendline allora che cosa ha una trendline ovviamente come ho insegnato la regolina dei massimi e dei minimi la trendline è un modo per andare a a definire una tendenza in maniera univoca no? perché se noi andiamo a prendere massimi e minimi vedremo quando vi farò fare gli esercizi la prossima volta ovviamente quello che vedo come un massimo se non lo definisco potrebbe essere non è solo per lei invece quando io ho una 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 tendenza rialto e dico che la trendline mi deve congiungere tutti i minimi mi ha solo tirata male ovviamente no? è una linea retta è una linea retta che congiunge tutti i minimi come in questo caso io ovviamente vado a vado a dare delle regole precise no? per esempio questa è una trendline discendente 1 2 3 quando mi ha rotta quando il mercato rompe la trendline io devo iniziare a ragionare di un possibile fine della tendenza ribassista che non è avvenuta subito ma è avvenuta dopo poco stessa cosa qua 1 2 3 quando me lo rompe qualcosa di brutto deve succedere no? quindi la trendline di congiungere i minimi per identificare una tendenza rialto e quando c'è la rottura adesso questi sono esempi non venuti troppo bene c'è la rottura di basso o tracciare dei canali la cui fu riuscita da questo canale indica un cambiamento di tendenza sono delle tecniche molto da praticone ok? ma voglio dire non devono essere prese oggi per oggi come il sacro graio del mercato finanziario no? voi sapete che sul mercato finanziario sono gente che non so vende delle newsletter in cui dà le previsioni basando i calcoli sull'astronomia quindi vi ricordo quando ero giovane che scrivo per Repubblica avevo fatto un articolo interessato il capo delle gestioni della Nomura che era una banca lapponese e gli avevo chiesto se lui credeva alla astrologia cinese no? potete dire che loro hanno una astrologia diversa no? sono il cane e il gatto no? e lui mi aveva detto no io non credo all'astronomia assolutamente però e mi aveva mandato via fax allora che non c'era internet l'andamento della borsa di Tokyo il Nikkei in cui lui aveva segnato i giorni di una piena e l'una nuova e effettivamente con le sue manine proprio si era proprio fatto con gli os si è fatto molto bene e effettivamente era impressionante vedere la corrispondenza tra i cicli lunari e i massimi di mercato effettivamente lui che era una persona aspettabile ha detto no io l'anamento non ci credo però mi aveva fatto vedere che effettivamente uno andare con la luna come con l'aceto balsamico e l'ambrusto anche la borsa rispondeva ai cicli lunari quindi in borsa si vede di tutto l'importante è avere sempre presente questa distinzione tra l'analisi tecnica classica e l'analisi tecnica moderna la cosa che più interessa diciamo chi si occupa di informatica non sono diciamo i pattern grafici quanto sono gli indicatori noi adesso lo vedremo quando quando vedremo la la parte relativa a molti chart gli indicatori sono di solito delle medie mobili calcolate in un'infinità di modi che vanno a interpretare l'andamento dei prezzi ovviamente voi immaginerete che un esempio banale di media mobile quale potrebbe essere che se la media mobile è a rialzo ovviamente il mercato è a rialzo se una media mobile è a ribasso il mercato è a ribasso poi il passo successivo che cos'è? il passo successivo è se una media mobile è a 10 giorni superiore a una media mobile a 200 giorni allora il mercato è a rialzo viceversa è a ribasso poi introduco una terza media mobile poi una quarta e una quinta e alla fine vado in quella situazione di iperottimizzazione del mio modello che vedremo nella prossima lezione andiamo a vedere in maniera molto rapida quelli che sono diciamo i principali strumenti dell'analisi tecnica classica allora uno sono i canali di tendenza nel senso che io vado a congiungere i massimi e i minimi e vado a presupporre che il mio mercato si continui a muovere all'interno di questi canali una fuoriuscita dal canale mi sta a indicare semplicemente che mi devo attendere a un'accelerazione o un cambio di tendenza quindi ho il mio canale ho il mio grafico ho il mio canale io mi attendo che i miei pressi continuino a oscillare all'interno del canale ovviamente rimbalzando quando torno al punto di minimo e rimbalzando a ribasso quando torno al punto di massimo laddove io ho una violenta uscita dal canale fuoriuscita al canale ovviamente devo presupporre che da quel momento i prezzi scendono viceversa se io non ho fuoriuscita dal canale a riatto io devo presupporre i prezzi esplodono questa è un po' la logica del canale ritracciamenti allora i ritracciamenti c'è molto esoterismo nei ritracciamenti vi ho detto prima la differenza tra le previsioni del tempo e le previsioni del tempo invece che impattano sulla realtà cioè se io domani prevedo neve devo andare a Empoli e compro un biglietto del treno vado ad impattare sulla realtà allora io mi ricordo che quando sono andato la prima volta a New York sono stato accreditato sul pit del Nice gli operatori ho passato un giorno a intervistarli come giornalista e chi opera di solito sul pit è un bifolto cioè non è che noi pensiamo che sia un mestiere particolarmente voluto ma sono tutti broker come vi ho spiegato il broker è un intermediario non capisce niente di quello che fa riceve un ordine compro vende compro vende compro vende poi spesso volentieri fa anche trading improprio ma non sono soprattutto allora non esisteva ancora il trading algoritmico era tutto trading fatto di pancia allora che cosa facevano questi broker questi broker che operavano sul floor floor trader sul taccuino facevano dei calcoli in base a tutte le metodologie che di solito gli altri operatori utilizzavano e poi andavano a identificare quelli che erano i pivot cioè i punti di inversione del mercato allora per esempio non so ci sono quelli che operano secondo Gann Gann era un trader santone degli anni 20-30 molto noto che ha scritto dei libri molto esoperi come sempre l'esoterismo va con la borsa quindi ci sono molti puntori di Gann ma ripeto però sembra che lui fosse molto bravo ad operare infatti una volta chiamò un giornalista di Wall Street Journal che lo seguì durante tutta la giornata e certificò che lui aveva fatto 5.000 operazioni di cui il 90% inutile aveva guadagnato XY allora Gann dice per esempio che i ritracciamenti vanno per terzi quindi cosa significa? significa che se un prezzo è passato da 50-100 io mi aspetto che ritracci un terzo di questo movimento cioè da 50-100 sono 50 il 30% 15 quindi una volta arrivato a 100 io so già che deve tornare a 35 ci siamo? verso poco ci sono quelli che invece usano i numeri di Fibonacci voi sapete che sono i numeri di Fibonacci è una serie storica che ha una particolare una scessione di numeri che ha una particolare caratteristica statistica no? se voi dividete ciascun numero per quello precedente salta sempre qua lo stesso numero no? come dicevo là ci sono 3, 5, 8, 13 se lo moltiplicate se lo dividete per quello successivo ciascun dei calcoli per cui da questi numeri per esempio arriva al 61,8% quindi se voi credete in Fibonacci è passato da da 50 a 100 il 61% di questa distanza sarà il punto in cui i prezzi scenderanno prima di ripartire e via andare ovviamente c'è una buona componente di magia in questi in questi calcoli che fa sorridere però come la previsione del tempo se tutti prevedono neve ma domani andrì una neve però tutti hanno comprato il biglietto il treno domani Tomasini sul treno la Firenze Empoli sta in piedi perché tutti vanno a Empoli col treno allora cosa facevano questi flop trader al Nines di New York loro si segnavano su questo blocchetto tutti questi numeri e poi si dovevano comprare dove compravano? compravano un po' un po' un po' compravano su quel prezzo del ritracciamento perché? perché era il prezzo a cui loro si aspettavano che qualcuno compisse una particolare azione sono stati fatti dei test e molte volte effettivamente anche nella mia esperienza questi ritracciamenti hanno dello spettacolare ovviamente io non credo ai numeri di Fibonacci non credo ai fondi di caffè erano pieno di una nuova però mi aspetto che su quei prezzi ci sia una reazione quindi soprattutto nell'intraday se c'è su quei prezzi una reazione ovviamente è come prevedere che domani da Firenze-Santa Marnavale a Dempoli il treno sarà murato sarà murato perché tutti i comuni come Tomasini che devono andare in macchina vanno in treno quindi al 61.8% se uno deve comprare compra là si screde è una possibile spiegazione perché a volte questi numeri prevedono spettacolarmente i punti di inversione abbiamo parlato per esempio dell'escursione della barra io avevo detto che una barra quando è molto ampia significa un punto di inversione del mercato cosa significa? significa che il mercato è disorientato ci siamo che se il massimo e il minimo sono distanti vuol dire che in quel giorno non c'era la stessa uniformità di pensiero cioè se io ho una barra, un bel candelone bianco rialzista ci siamo che è come un'elezione in quel giorno il mercato ha votato che il titolo doveva andare a rialzo perché hanno comprato tutti c'era un candelone bello grosso ci siamo? se io ho una barra che è molto ampia in questo caso la barra è ribassista però non importa il concetto è lo stesso se io ho una barra molto ampia significa che c'è stata una divergenza di pensiero la barra ampia è un mercato che prima di decidere dove andare ha discusso molto diciamo che la barra ampia è come la lunghezza della discussione di un'assemblea hanno discusso molto, hanno trovato molto, c'è stata diversità di opinioni poi alla fine in questo caso hanno deciso di andare a rialzo vedete che prima le barra avevano un'ampiezza tutta piccola rispetto a quella delle decisioni di solito quando la barra è ampia si chiamano reversal day cioè sono barre che vi dicono che il mercato ha votato qualcosa di importante di solito di cambiare direzione i gap, cosa sono i gap? i gap sono li vedete in questo grafico delle parti di grafico in cui il mercato non ha tradato cioè io ho un'azione che quota da 7-8 e il giorno dopo apre a 9 e chiude a 10 cioè lo spazio tra 8 e 9 non c'è nessuno che fa una trattazione nessuno che fa una domanda, nessuno che fa un'offerta perché? perché ovviamente il mercato di solito quando sono i gap è molto forte cioè il mercato è talmente convinto che quell'azione deve andare su che un giorno quota da 7-8 e il giorno dopo apre a 9 e chiude a 10 cioè il mercato non c'è nessuno che ha un dubbio che possa quotare 8 e mezzo no tutti sono rialzisti infatti di solito si chiamano runaway gap cioè un mercato in corsa che è talmente in corsa che non si preoccupa cioè non ha nessun dubbio cioè da 8 a 9 no proprio è da 10-11 il prezzo si dice che è un gap che può essere ricoperto cioè nel senso che se il mercato non tratta da 8 a 9 prima o poi i prezzi tornano indietro questo fa parte, secondo me, di un meccanismo diverso nel senso che quando il mercato strappa è come un elastico poi torna sempre indietro cioè ad un certo punto qualcuno dice ma come? questa azione che da 5 è passata a 10 è raddoppiato di prezzo ma effettivamente se lo meriti di raddoppiare di prezzo e quindi c'è un ritorno alla media allora ovviamente sui testa e spalla sui triangoli, sui cunei, sulle bandiere che sono le principali fibre di inversione si è accanita l'analisi accademica gli accademici sono accaniti per dimostrare che non funzionano allora io non ho mai fatto come market practitioner una differenza tra i nomi diversi che vengono date queste figure perché comunque la mettiate per esempio questo vedete che è un testa e spalla vedete qui c'è una spalla sinistra poi abbiamo la testa e poi di nuovo la spalla destra questa è una figura di inversione che si chiama testa e spalla che cos'è un testa e spalla sono tre massimi allineati e due minimi allineati quindi che cos'è un testa e spalla è una figura di lateralità quindi io non nella mia testa non ho mai fatto molta c'è un testa e spalla un testa e spalla è una doppia v rovesciata venuta male non è che siamo qua a fare i geometri no? tirare le ride tutto perfetto testa e spalla è un doppio v una figura di congestione venuta male un cuneo sono due v inclinate verso il rialzo un flag sono due v piccole piccole all'interno di un tento osso in orizzontale quindi cioè poi uno le può chiamare in maniera diversa ma questo è un pattern a cui sono particolarmente affezionato che sulle azioni è devastante questo si chiama tecnicamente tazza col manico o rounded bottom ed è il classico pattern dell'accumulazione sulle azioni quindi ho avuto un primo movimento rialzista poi il mercato oscillato in laterale disegnando quasi una tazza ha iniziato a accumulare qua c'è già l'awareness da parte dei media degli investitori che questa azione quota bassa fa la prima sparata ritraccia e poi a questo punto è come se vi telefonassi c'è una guarda questa azione sta partendo perché l'hanno comprata è vicina ai massimi e questa vi fa pilotto questo lo vedete in maniera molto ricorrente sulle azioni ed appartiene anche un pattern che si chiama Canslim di William O'Neill che è il best seller sulle azioni americane un libro che si è avvenuto in qualche milione di coppie ed è una delle sue figure preferite si chiama tazza col manico o rounded bottom le figure di consolidamento sono i triangoli questo è il classico triangolo quello che abbiamo visto su Beyond ovviamente che cos'è? abbiamo una grande V con una V più piccola con ancora una V più piccola quindi sono tre V una dentro l'altra no? quindi se voi ragionate in movimento orizzontale movimento ribassista movimento rialzista sostanzialmente avete già risolto di dare un nome a tutte queste diverse conformazioni grazie a tutti Grazie a tutti